noi esseri umani dovremmo gioire al cospetto del signore e maggiore è il diletto più è grato a dio io ho i miei dubbi che possa interessargli molto stare a guardare le merde che gioiscono non mi riferisco ora ai tipi alla lago ma alla gente dotata di normale e cioè atrofizzata immaginazione compito della psicologia è di spiegare di giustificare queste merde ma lo spirito di dio sa che le condizioni principali sono epistemologiche e metafisiche e che riguardano la prigione l'inferno del circolo chiuso prima dell'origine della terra dice il libro dei proverbi io ero al suo fianco quale architetto e mi compiacevo giorno per giorno gioivo di continuo in sua presenza mi dilettavo sul globo della terra deliziandomi dei figli dell'uomo ho dovuto rimandare degli impegni di lavoro disse lo zio riprendendo le razionalizzazioni che aveva così ben ripassato sono dovuto andare a prenderla dopo la lezione di ballo o dopo la seduta dall'analista e poi siamo andati per un'oretta nella serra del parco o nel laboratorio di genetica di frankenhalter in posti cioè in cui non correvi il rischio di incontrarmi veramente non era questo cui pensavo tu no ma qualcun altro sì non guardarmi con quell'aria di marito tradito kenneth e non devi parlarmi nemmeno come se io avessi tre anni e tu mi avessi colto a giocare con i fiammiferi ben detto questo cambiai tono ero io stesso sorpreso dall'irritazione dalla rabbia dal vulcanismo della mia reazione mi sentivo come un padre che abbia per un attimo lasciato andare la mano del figlio e il bambino si è subito corso in mezzo alla strada finendo sotto un camion dolore e rabbia sproporzionati all'avvenimento non servivano con lo zio ma la partecipazione di nozze che avevo trovato al mio ritorno mi aveva molto scosso ebbi una reazione del tipo dignità offesa altri tempi lasciai un messaggio per ben mi feci dare il nuovo numero della segretaria del suo dipartimento e lasciai un altezzoso messaggio alla segreteria telefonica era andato a stare con la famiglia della moglie nel doppio superattico che avevano in cima a un edificio di nuova costruzione situato come dicono in questa città in un elegante quartiere antico voglia dire in mezzo a un gruppo di palazzoni residenziali molti dei quali dipinti di rosa tanè così che quando erano illuminati in pieno dal sole facevano pensare ai figli del mattino che gridano di gioia gioia per tutti i quattrini che hanno accumulato io ho altri zii dalla parte di papà che lì sarebbero stati benissimo ma lo zio Ben non aveva davvero niente a che fare con un posto del genere mi richiamo molto presto naturalmente aveva pensato molto alle mie reazioni e aveva trascorso molte notti insonni a decidere come fare la pace con me io non voglio andare a casa sua la casa di prima sotto l'appartamento della Bendel venne lui nella mia stanzuccia spoglia priva di comfort alla casa dello studente aspettandolo sulla mia logora poltrona non avevo solo il broncio ma ero d'umore aggressivo e preparavo e limitavo le mie accuse per mettere lo zio con le spalle al muro non una ma più volte ma cosa diavolo hai creduto di fare non me l'avresti tenuto nascosto se davvero sapevi quello che facevi ma ad un tratto mi vidi come ero pronto a cogliere ogni opportunità per prendermela con lo zio il quale aveva già guai più che a sufficienza stanco del viaggio in una stanzuccia senza tendino o tappeti erano state forse le riviste russe sparse per terra indurre in me uno stato d'animo russo di vivi e lascia vivere in unione sovietica quello sarebbe stato un alloggio sontuoso ma cercavo solo di distrarmi con questi pensieri di privazioni e di stenti giusto perché ero giù di morale mi vidi come ero uno schizzo di una figura umana una via di mezzo tra Guiscan e Rembrandt una figura ossuta dalla faccia lunga gialla e verdastra per via dei riflessi che salivano da un canale olandese oggigiorno il vivere se ce la prendiamo a cuore ti consuma e io stavo trasferendo la miseria interiore all'esterno solo perché certe mie aspettative erano andate deluse se fossi stato una donna avrei risolto ogni cosa con un bel pianto purificatore e oltretutto nulla quella mattina andava come doveva anche la protesi acustica era partita e quando avevo infilato un dito tra i capelli lunghi per darle un colpetto mi era esplosa nel cranio come un boom ultrasonico quindi e proprio non saprei dire perché mi tornò alla mente una vecchia storiella a proposito di uno show di Ed Sullivan probabilmente non si tratta che di folclore Sullivan aveva chiesto un piccolo contributo al generoso pubblico americano per poter curare una povera ragazza spastica la ragazza venne curata e poi andò in tv a far vedere quanto era migliorata per mostrare come era ben coordinata Sullivan durante lo show le diede un cono gelato grazie Ed disse la ragazza e presse il gelato ma invece di portarselo alla bocca se lo spiaccicò su un occhio la crudeltà della storiella non era rivolta contro i poveri spastici ma contro di me contro il mio udito difettoso una frecciata nata dalla rabbia appena arrivato lo zio confermò che avevo la faccia verde con segni neri questione forse di bile disse che si sarebbe fermato solo pochi minuti per lasciarmi dormire rimase invece per parecchio tempo non ti sarai ammalato in Etiopia il campo profughi non è in Etiopia è in Somalia a Tug Vajale evidentemente la mia cartolina non è arrivata no no sì che è arrivata di solito la politica interessava pochissimo allo zio e quindi di sicuro non sapeva cosa Mengistu stava facendo in Etiopia Mengistu si era dato da subito al terrorismo faceva ammazzare i figli dei suoi oppositori e poi li faceva buttare davanti alla porta dei genitori